Amici di motori Y-Sport ci troviamo allo stand Lexus, alle mie spalle è presente la fantastica LF1 Limitless, prototipo di casa Lexus, con una linea che rispecchia quella di un SUV che diventa una coupé nella parte posteriore. Da notare gli specchietti, che non sono gli specchietti tradizionali, ma sono delle piccole telecamere che dove all'interno tramite uno schermo LCD è possibile, dove questi schermi LCD fungono da retrovisori posteriori. Fantastico il gruppo ottico posteriore, con una lunga linea che parte dalla fiancata posteriore destra e termina nella fiancata posteriore sinistra, ovviamente tutto con tecnologia full LED. Fantastico il paraurti con dettagli molto sportivi, con un diffusore e delle prese d'aria presenti a media altezza ad entrambi ai lati del paraurti. Strumentazione interna molto tecnologica, vedete alla sinistra del tachimetro digitale è presente uno schermo LCD che funge, come dicevo prima, da retrovisore, da specchietto retrovisore. Sulla destra, alla parte centrale, abbiamo lo schermo LCD dove sono indicate tutte le funzioni del veicolo, ovviamente funzioni che sono indicate anche sull'altro schermo, quello posto centralmente, in alto sul cruscotto. World Premier in casa Lexus con questa fantastica Juke 250. Il modello rappresentato qui al salone di Ginevra 2018 è la versione Hybrid. Ce ne accorgiamo dalla denominazione del modello e dalla lettera H che contraddistingue i modelli a benzina da quelli ibridi. Lexus fa sapere che sarà disponibile solamente in due motorizzazioni, benzina e a ibrida e non c'è una variante diesel. Presenta un assetto ribassato che è un crossover ma in realtà la rende agile come una hatchback. Molto belli gli interni, molto sportivi in questa versione, poiché questa qui è l'allestimento F Sport, logo che da anni esprime sportività in casa Lexus. Il disegno del frontale con una griglia a fuso, nuovo stile Lexus e il marchio al centro della calandra illuminato dal fantastico LED blu. Che dire, stand di lusso con auto di lusso qui al salone di Ginevra con lo stand Lexus. Per tutte le altre informazioni più dettagliate sui veicoli leggete l'articolo su Y Sport. Grazie.